Tra foto, video e commenti, social network in questi giorni hanno raccontato l'ondata di neve e gelo in provincia di Arezzo, a cominciare dagli scatti d'autore che hanno immortalato attimi di rago fascino e bellezza. E poi non sono mancate le curiosità, qui vediamo cosa può accadere quando una signora lascia aperta l'acqua con un gelo del genere. Qui invece ad andare in tilt è stato il termometro. E mentre qualcuno evoca scene da film, pare sia tornata in azione anche la mitica Dringo Leide che spunta fuori ad ogni nevicata di una certa rilevanza.